Sono auguri di buone feste che intanto vi faccio e quindi poi speriamo che vada tutto bene e che si stia serenamente a divertirci. Brindisi degli auguri nel salone della prefettura di Arezzo, letture a tema natalizio e musiche ma c'è stato modo anche di parlare con il prefetto delle disposizioni che saranno in essere in occasione del Capodanno. Abbiamo affrontato per quanto riguarda Arezzo ovviamente le misure che sono state già con riunione disposte dal questore. Per quanto riguarda il Capodanno sono state illustrate tutto il programma e il progetto della festa e quindi adottate misure di sicurezza anche in particolare tenendo conto gli ultimi fatti che sono successi a Strasburgo. Abbiamo parlato anche delle discoteche, visto quello che è successo recentemente a Senigallia. Io ho chiesto ai sindaci di adottare delle ordinanze dove possono vietare l'uso di petardi perché se ne farà uso immagino ma comunque di fare attenzione in ogni caso e soprattutto di vietare lo spray urticante e quindi speriamo che tutto vada bene e che le persone si possano divertire. Grazie a tutti.